Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. Befane che calano dall'alto, che arrivano in Vespa, che si confondono tra la folla, in una piazza d'Italia festante, colorata, con bambini di ogni età. Vigi del fuoco, polizia locale, mezzi di soccorso e le immancabili giostrine, ma soprattutto dolci per tutti, per i più piccoli, veri protagonisti dell'Epifania, che a Sassari si festeggia coinvolgendo l'intera città. Una giornata di solidarietà per i bambini ricoverati, che sono stati visitati di prima mattina dalle Befane dell'Associazione Vespa, scortati dalla polizia locale, che dopo le tappe nei vari reparti pediatrici, in corteo, sono arrivati in piazza d'Italia con le loro maschere mostruose, ma al tempo stesso rassicuranti, perché la vecchina porta dolci e non è mai cattiva, nonostante l'aspetto. Un'altra Befana, più spericolata, arriva invece dall'alto, si cala dal palazzo della provincia e come ogni anno lancia le corni e corriandoli sulla folla. E' ancora una giornata di istruzione, tutti da piccoli hanno sognato di fare il pompiere e allora quale migliore occasione per spegnere un fuoco con un vero idrante o lanciarsi in percorsi ad ostacoli come fanno ogni giorno gli eroi con le tute rosse. E' ancora l'istruzione alle regole stradali con tanto di macchinine e gli uomini della polizia locale che insegnano come dare una precedenza o rispettare le regole del codice stradale. Una festa, ma anche una giornata di solidarietà, con tanto di informazione verso le regole, il rispetto delle istituzioni e di chi lavora per mantenere l'ordine e interviene nei momenti di maggior difficoltà. Una battaglia che investe ogni sardo e che deve essere condotta unitariamente da tutte le forze politiche. E' quanto emerso questa mattina a Porto Torres, nella stazione marittima dello Scalo Turritano, dove si sono riuniti i consiglieri regionali del territorio, il presidente del Consiglio Michele Paes e i sindaci per fare il punto sull'aggravio dei costi dei trasporti via mare. Un'iniziativa che era stata approvata il 21 dicembre scorso in un ordine del giorno unitario in cui si chiedeva alla Giunta di avviare tutte le iniziative presso il Governo nazionale per scongiurare l'aumento delle tariffe marittime. All'incontro con i giornalisti non erano presenti i parlamentari sardi impegnati in un tavolo a Roma per scongiurare l'aumento delle tariffe. La seduta straordinaria del Consiglio regionale che si è svolta a Porto Torres ha registrato un'unitarietà di intenti di tutte le forze politiche e concordi nel ribadire che qualsiasi aggravio conseguente all'utilizzo di carburanti meno inquinanti debba essere supportato dal Governo centrale e non dai cittadini sardi già penalizzati dalla loro insularità e da una situazione economica ormai asfittica. Un comitato di genitori e cittadini sul piede di guerra contro l'amministrazione comunale. Non si placano le proteste dopo la delibera di Giunta del 17 dicembre scorso che decideva la soppressione dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso, smembrato tra San Donato, a cui andranno i plessi del Sacro Cuore di Via Pavese, e Monte Rosello Alto, che accorperà la scuola di Via Baldedda. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore all'istruzione e attività educative Rosa Narro, che anche ai nostri microfoni il 19 dicembre, in margine all'audizione della Quinta Commissione, dichiarava che nulla sarebbe cambiato per bambini e insegnanti, la riconfigurazione delle scuole non convince i genitori. Con le nuove misure salteranno il dirigente scolastico e quello amministrativo, e con il rientro in nuova e gradiatoria il Comitato suppone una riduzione del personale, con ricadute anche nella elaborazione progettuale futura. Ma è soprattutto l'opportunità della delibera ad essere contestata. Secondo i promotori del Comitato, la scuola è perfettamente funzionante, e con i suoi 810 iscritti, 600 alla quantità minima, ha tutti i numeri previsti dalla normativa vigente per il mantenimento della sua autonomia. Una contrapposizione frontale dunque con la linea della Giunta Campus, a cui il Comitato ha chiesto un incontro per revocare quanto deciso. Lo stesso Comitato, intanto, con il rientro degli studenti a scuola dopo le vacanze, ha già raccolto un centinaio di firme contro la delibera. Ora la palla passa alla Regione, che questo venerdì deciderà il destino della proposta sassarese. Una coperta di decine di metri in Piazza Castello contro la violenza sulle donne. Arriva anche a Sassari, viva Vittoria, progetto nato nel 2015 a Brescia, che si occupa di reinserire in società le donne vittime di violenza. L'iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo Ducale, alla presenza dell'assessore ai servizi sociali Antonello Sassu e a quello all'istruzione Rosanna Arru e delle idiatrici della proposta. Lo scopo è realizzare un quadrato in maglia 50x50, che cucito insieme agli altri con un filo rosso dai partecipanti volontari, l'8 marzo, coprirà Piazza Castello. Il ricavato della vendita dei filati andrà al progetto Aurora, per assistere le donne vittime di violenza. Sassari è la capofila dell'iniziativa in Sardegna e la Giunta Campus, aderendovi, conferma la sensibilità sul tema delle violenze di genere. Questo è un grandissimo tema che tocca a tutti. Ci tocca come genitori, ci tocca come cittadini di Sassari, ci tocca come esseri umani. La violenza contro tutti e in particolare in questo caso contro le donne è una priorità per noi. Quindi tutti i cittadini che hanno questa sensibilità, ma anche quelli che non ce l'hanno e vogliono però capire di più, avvicinarsi a comprendere le ragioni che spingono l'amministrazione come noi a sviluppare progetti come questi, possono comunque contattare noi, possono contattare i referenti di Viva Vittoria e partecipare con noi alla realizzazione di questo progetto. In città si sente la necessità di appoggiare una situazione che la maggior parte delle volte è sommersa, appunto di violenza su donne, violenza anche psicologica. Il nostro messaggio oggi è questo, abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a fare questi quadrati, con quello che hanno in casa, con gli avanzi, a ferri, a uncinetto, possono essere consegnati per il momento in due punti in città, in via Galilei 46 oppure in via Marras numero 7. Tutti i contatti e i dettagli dell'iniziativa possono essere trovati facilmente sulla nostra pagina Facebook Viva Vittoria Sassari e sul profilo Instagram Viva Vittoria Sassari, nonché sul sito nazionale VivaVittoria.it. Viva Vittoria Sassari e sul profilo Instagram Viva Vittoria.it.it. E' partita dalla Sicilia l'inchiesta degli uomini della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di tre navi della società Caronte Turist e Pace Caronte Ulisse e di diversi beni mobili, mobili, denaro e quote societarie per un totale di circa 3 milioni e mezzo. Il reato ipotizzato di truffa e frode e danni dello Stato, i traghetti sequestrati erano impiegati nei collegamenti tra la Maddalena e Palau Trappani, Isolegadi e Palermo Ustica. Tra gli indagati diversi gli amministratori della società di navigazione di alcune consociate, Sergio Lacava, di 56 anni, Luigi Genchi, 55, Edoardo Bonanno, 48 e Vincenzo Franza, di 55. E' stata invece segnalata dalla Procura Siciliana per le responsabilità amministrative derivanti ai reati di truffa e frode, la società Caronte Turist, Isole Minori, società per azioni. Quattro assessori regionali, due deputati e decine di sindaci è l'incontro che si è svolto ieri a Nuoro nella sala conferenze dell'Eurohotel e un pubblico di amministratori, ma soprattutto allevatori e tecnici del settore per la presentazione delle due proposte di legge per il rilancio del comparto vino, caprino e bovino, siglate dal consigliere regionale Giuseppe Talanas con il gruppo consigliare di Forza Italia. Due proposte di legge, la prima, quella dei bovini, che mira la tutela delle razze autotone, ossia la razza sarda, la sardo bruna, e la razza modicana, con incentivo a favore delle imprese agricole in misura di 900 euro per l'allevamento delle vitelle sfemmina e quindi la sottrazione al mancello. La seconda proposta, la numero 78, che mira a rilanciare il comparto UV Caprino consentendo una premialità all'allevatore che va a limitare la produzione di latte e di carne. Due misure emergenziali per tamponare, quantomeno, la crisi del comparto. Numerosi gli interventi di pastori che hanno apprezzato l'iniziativa e che hanno apportato suggerimenti, ma anche sottolineato, le difficoltà del settore. All'incontro si attendeva il Presidente della Giunta regionale, Cristian Solina, stratenuto a Cagliari per un impegno istituzionale dell'ultima ora, ma che incontrerà a breve una delegazione di pastori con tutte le proposte che sono emerse durante l'incontro onorese per perfezionare le due proposte di legge che saranno calendarizzate a breve in Consiglio regionale come suggerito dal Sindaco di Olbia, Setti Monizi, e dal deputato Angelo Cocciu. Con questo convegno, dichiarato l'assessore al bilancio Giuseppe Fasolino, si è riportato al centro del dibattito politico la questione del comparto agropastorale con l'obiettivo di rafforzare l'anello debole della filiera, cioè i produttori di latte che dovranno determinare il prezzo del loro prodotto in base ai costi. Un giudizio negativo nei confronti del Governo centrale è stato espresso dall'assessore all'agricoltura Gabriella Murgia per non aver emanato il decreto che consenta la tracciabilità del latte. L'abolizione della richiesta del certificato antimafia per ottenere fondi è stata chiesta dal deputato Pietro Pitaris, mentre l'assessore al lavoro Alessandra Zedda ha evidenziato che occorre sinergia tra tutti i settori economici per favorire lo sviluppo dell'isola e in quest'ottica che dovrà essere studiata anche una riforma agraria. Che i lavoratori siano al centro di ogni politica di sviluppo lo ha sottolineato invece l'assessore al personale Valeria Satta, ma il vero protagonista della serata è stato l'estensore delle due proposte di legge, il consigliere Giuseppe Talanas che molti pastori nei loro interventi hanno individuato come loro portavoce in Consiglio regionale.